In risposta al sollecito del sindaco di Eboli, Mario Conte, è giunta dall'ASD a firma del direttore del Dipartimento di Salute Mentale, il dottor Giulio Corriveti, la rassicurazione che la riapertura della struttura di psichiatria è imminente. La stessa era stata temporaneamente sospesa per completare alcuni lavori di istituzione, ottenere la regolare autorizzazione sanitaria e completare la dotazione organica necessaria per la gestione. A rallentare finora la riapertura resta da superare sempre secondo quando affermato dall'ASD soltanto il completamento della dotazione organica. Soddisfatto di questo primo riscontro, il primo cittadino di Eboli continuerà a far la sprone affinché si individui al più presto anche il personale necessario e si riapre la struttura nel minor tempo possibile. Ribadisco, ha detto il sindaco di Eboli, che si tratta di una struttura essenziale per la collettività, un punto di riferimento per le molte patologie di questo tipo. Mi auguro perciò che l'ASD risolva l'ultimo problema al più presto possibile. Noi resteremo con la guardia alta.